vai vai subito subito addio affascinante per cazzo faccio questa curva vediamo che non ce ne siamo com'è? eh ho visto queste curve qua così ripide non le ho mai fatte in vita mia com'è? quella lina infatti sono scesa non ti guardo in faccia perchè stavolta ti acciclo pr vermice non non questa è la che si ti guardo la qui qui Grazie a tutti. Grazie. Ci siamo. Ok. Bene, bene, dai. Bello, bello. Molto. Grazie di avermi aspettato. Vabbè, ma l'ho detto così e per cortesia. Se non mi aspettavi ti mando la caffa al culo. Oh. No.